Il nostro compito come Corpo della Guardia di Finanza nell'intervento in caso di calamità naturale o di terremoto è quello di cooperare insieme alle altre forze di polizia per prevenire azioni di sciacallaggio. Poi contemporaneamente contribuiamo nella ricerca di eventuali dispersi e concorriamo in tutte le attività che ci vengono demandate dall'autorità competente.